Gentili telespettatori, buona giornata. Massimo Giannini dice Agenti da me in hotel alle 4 del mattino. C'è una regia. Andiamo a vedere che regia c'è e cosa facevano gli agenti. Poi agenti di che cosa? Agenti esterni, agenti climatici. Vediamo, eh? Italo Bocchino, il difensore del centrodestra televisivo, e Massimo Giannini, uno dei grandi accusatori, odiatori, come possiamo dirle, uno dei grandi livorosi verso il centrodestra. Siamo a 8 e mezzo, trasmissione di sinistra condotta dalla Gruber di sinistra in la televisione di sinistra con Massimo Giannini di sinistra. L'unico estraneo è Italo Bocchino, il autoproclamato difensore del centrodestra televisivo. Mi piace così? Eh, se non vi piace fa niente così lo stesso. Allora, tre cronisti identificati e portati in questura in occasione di un blitz di ultima generazione. Quanto accaduto interviene con una nota il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con riferimento all'episodio di questi tre cronisti identificati e portati in questura in occasione di un blitz di ultima generazione. A Roma, dice, e nel resto del territorio nazionale, non è mai stata data una direttiva operativa che prevedeva l'identificazione di giornalisti e operatori dell'informazione in occasione di manifestazioni pubbliche. Singoli episodi che hanno portato all'identificazione sono avvenuti in contesti dove la qualifica di giornalista non era stata dichiarata o dimostrata. Trattasi in ogni caso di circostanze che non sono riconducibili a nuove modalità operative. Mi sembra abbastanza chiaro? Allora, se c'è una manifestazione e vengono arrestati degli attivisti che stanno facendo qualcosa di illegale e tu sei lì, vieni arrestato e poi dici, no ma io sono un giornalista. Eh, ma perché non ti sei identificato prima, un cartellino al collo, hai detto subito sono un giornalista di questa testata. Quindi da quello che io apprendo, attenzione, lo apprendo dai giornali, non ero lì, cribio, è che i tre cronisti identificati non si erano qualificati come giornalisti, la loro qualifica di giornalista non era stata dichiarata o dimostrata, li hanno poi identificati e poi gli hanno detto vabbè, andate. Ci vedete qualcosa di strano? Beh, ovviamente la sinistra ci vede il fascismo, la dittatura, la meloni dal balcone di Palazzo Venezia, combattenti. Allora, arriva Giannini, il livoroso televisivo indirezzato al centrodestra, ex direttore della stampa, non si è mai capito perché l'hanno mandato via, chi lo sa. Piacerebbe saperlo un giorno, così curiosità personale, niente contro questo giornalista, ci mancherebbe altro. Giannini parla di urbanizzazione e dice, vi faccio un esempio personale, mi è stata notificata una querela alle 4 del mattino, mi è stato detto e la prassi. Ma questo si fa per i trafficanti di sostanze, c'è una regia dietro questo fatto come quella che c'era per il loggionista della scala. Bocchino interrompe e dice, ma che dici, siamo in democrazia, al limite questa è una fesseria di due agenti, nulla di più. Allora, una querela notificata alle 4 del mattino in albergo, sembra una roba molto strana, cioè l'acquerela ti viene notificata tramite raccomandata al tuo domicilio, cioè se c'è una querela, se qualcuno ti querela, non è che arriva la polizia a casa alle 4 del mattino e ti dice, guarda, ti consegno questa querela, mi sembra un po' strano, però se Giannini dice che è successo questo, mi sembra una roba un po' assurda, in hotel, prima di tutto come fanno a sapere che sei in hotel? Seconda cosa, non si consegna una notifica di una querela in hotel, si consegna a casa, è una raccomandata con ricevuta di ritorno, ricevuta di ritorno deve poi ritornare al tribunale, quindi non so Giannini di cosa stia parlando, lui dice, questo si fa per i trafficanti, Giannini, i trafficanti non è che gli notificano una querela, alle 4 del mattino un trafficante lo arrestano, di solito gli arresti li fanno alle 4 del mattino in piena notte, quando i delinquenti stanno dormendo, ma che alle 4 del mattino venga consegnata una raccomandata dalla polizia in albergo a Giannini, mi sembra un po' strano, scusi Massimo Giannini, mi sembra un po' strano, lui dice che questa è un'urbanizzazione, non credo proprio, anche se ci fosse un'urbanizzazione che non c'è, ma secondo voi la polizia si farebbe irregimentare in un regime, cioè la polizia guardate che quando c'è stato il tentativo di colpo di Stato in Italia negli anni 70, i congiurati, tra cui a capo c'era il principe Junio Valerio Borghese, ex comandante della decima massa, stava mettendo in atto un colpo di Stato, nei piani dei congiurati, perché sarebbe stata una dittatura militare, nei piani dei congiurati c'era l'arresto del capo della polizia, l'arresto del capo della polizia, perché probabilmente non era d'accordo con loro, quindi immaginare che se è arrivato un governo di destra, eletto dagli italiani, addirittura ci siano degli ordini impartiti alla polizia di andare a cercare i giornalisti negli hotel alle 4 del mattino, mi sembra una cosa veramente folle, che non può esistere una cosa del genere, non ha senso, non ha nessun senso, non credo proprio che né il comando generale dei carabinieri né il comando generale della polizia e i vertici delle forze armate si farebbero mettere dentro in un tentativo di colpo di Stato ipotetico che la sinistra immagina, anche perché siamo dentro la Nato e un colpo di Stato durerebbe un'ora e mezza e verrebbero tutti arrestati dalle forze speciali dell'esercito, dai reparti speciali, quindi è tutta una fantasticheria che non lo so cosa sia successo a Giannini, mi sembra strana una cosa del genere, poi non lo so, mi sembra un po' strana che alle 4 del mattino lo svegliano nell'hotel, guardi c'è una raccomandata, gliela ha portata la polizia, magari volevano fargli un favore, sapevano che non era a casa, guarda portargli la lina albergo, sai che poi la raccomandata devi darla di persona, mi sembra un po' una roba strana, quindi a sinistra continuate a giocare alla dittatura, ma ricordatevi che le dittature non sono un gioco, quando ci sono le dittature nessuno può dire più niente, neanche queste cose qua. Grazie a tutti e arrivederci a presto.